Anche i sindaci del territorio si schierano a fianco degli autotrasportatori a fronte del paventato aumento del 26% delle tariffe delle autostrade a 24 a 25, che potrebbe entrare in vigore dal prossimo 1 gennaio, rappresentando un ulteriore salasso sulle tasche di tutti gli automobilisti ed andando ad incidere in modo significativo su pendolari autotrasportatori, che già oggi, per una giornata a Roma ad esempio, arrivano a spendere più di 100 euro. C'è tempo sino al 31 ottobre per scongiurare l'ipotesi paventata da Stada dei Parchi, per cui una sorta di mobilitazione lanciata anche dalla CNA Fita Abruzzo è già partita e da quel che si sa, come accadde in passato, i primi cittadini dei territori coinvolti sono pronti a fare fronte comune. Gli aumenti sono provocati dalla mancata approvazione in sede istituzionale del piano economico-finanziario relativo alla concessione, ma per tutti questo non può ricadere sull'utenza. Non c'è stata l'approvazione del PEF e quindi il gestore intende far valere dal 2022 gli aumenti previsti nel vecchio piano economico-finanziario che in questo caso ammonterebbero a circa il 26% per tutta una serie di calcoli che non sto qui a riportare. La mobilitazione dei sindaci di Lazio e Abruzzo non si è mai interrotta e a questo scopo faremo un incontro il mercoledì prossimo per stabilire nuove forme di protesta dopo quelle che abbiamo fatto nei mesi passati. Gli autotrasportatori giustamente sono stati i primi ad alzare la loro forma di protesta, comprensibilmente, ma si pone a rischio tutto il sistema di trasporto dell'Abruzzo interno verso la capitale, anche e soprattutto dei pendolari. Non dimentichiamo i disagi che ogni giorno devono subire gli autotrasportatori, i pendolari e l'utenza in generale per i cantieri che sono sacrosanti ma che a volte questi disagi andrebbero in qualche modo compensati come sta facendo per esempio autostrade per altre tratte con una riduzione dei pedaggi.